Ok, tranquillo, respira profondamente. Allora, oggi è una giornata speciale, sono molto rincoionita dal sonno, però sto per fare una cosa che mi farà molto piacere, ovvero intervistare Thomas. È la prima volta che lui si fa vedere così sorridente perché ha i denti un po' simili ai miei, no? Lui si definisce una persona con i denti da squalo e ha deciso di parlarne qui nel nostro canale. Infatti lui tempo fa Fatalità mi ha scritto, mi ha scritto, guarda Silvia io ho questi denti, vorrei tanto diffondere un messaggio ma non so come fare, io gli ho proposto di venire nei miei canali. Parliamo un po' di te, innanzitutto perché i denti da squalo? È una definizione che ti sei dato solo o che ti hanno dato gli altri e che stai tipo rivendicando? Me l'hanno dato gli altri, io come modo di vendetta la sto usando in modo positiva però. Tipo io con i denti larghi che dico ormai a tutti c'è i denti larghi prima, e tipo come ti ricevano? E magari soprattutto nel periodo delle medie, cose così, mi chiamavano squalo, bocca da squalo, denti di squalo, sempre squalo però infatti io gli dicevo che non avevano fantasia. Ma lo sai perché io ho aperto il tuo messaggio? Perché vabbè io cerco di rispondere a tutti, però comunque quelli che mi attirano di più, tra i nomi è lo squalo del mio animale preferito. Quindi inizialmente dico Dio perché io seguo tutte le pagine del squalo, dico questi hanno qualcosa da me in collaborabile, mi ha detto di squalo, no. Ma chi è che ti prendeva in giro? Compagni? Compagni, capitava anche magari tra gli insegnanti che talvolta punzecchiavano. Avevo una prof di educazione fisica alle medie che era fissata proprio con i miei denti, quando aveva l'occasione puntava lì, però adesso non lo ricordo bene, anche perché quegli anni li ho eliminati un po'. Ma lo faceva direttamente o indirettamente? Direttamente. Direttamente? Sì sì, davanti a tutti, da me in faccia proprio. E ti iscreditava tipo, ti metteva in imbarazzo. Ma tu perché hai denti così, indipendentemente dal fatto che ti piacciono o meno? Perché? Io da piccolino sono nato con la labio palatoscisi, è una malattia genetica, è conosciuta come labbro lepurino. Ok. È quella, solo che praticamente colpisce dalla zona del naso al palato e questo porta alla gengiva a far crescere i denti. Storti? Ballerini, sì. Ma cosa porta questa malattia, quindi? La definiamo? Solo... come so. Solo i denti così? Ma tu potresti mettere un apparecchio oppure no? È da tantissimi anni che provo a mettere un apparecchio. Un apparecchio dove si fa un'operazione? Non lo so bene, sinceramente. Dovrei mettere un apparecchio fisso, però prima togliere i denti del giudizio. Che da un anno che ci sto dietro. Hai i denti del giudizio? Ne puoi aspettare pure quattro. Ti sono usciti tutti? No, uno. Esce un anno e mezzo ognuno in pratica. Io sto aspettando il quarto da due stadi fa. Tu punti a fare questa operazione oppure ti accetti così come sei e vuoi rimanere così? Eh, ci ho pensato molte volte che magari dico a me stesso che voglio rimanere così. Dico, ok, agli altri non sta bene, però io non ho problemi più o meno con i miei denti, no? Però altre volte penso che magari la mia vita potrebbe cambiare molto se facessi tutto questo percorso. Che pensi cosa cambierebbe? Beh, in certo il rapporto con la gente. E magari un po' anche con me stesso, quelle lacune che non sono ancora riempite. Tipo? E magari può capitare che voglio conoscere una persona. Ho già capito. Magari cerco di non parlare o di tenere la bocca chiusa il più possibile, anche se è una cosa che... Beh, non è che poi guarda la faccia una persona senza linea. Però mi capita che io vado e mi dicevo... Ah, è finito! Perché ho senza parlare? E poi come va avanti la conoscenza? Poi quel tempo faccio vedere. All'inizio, i primi momenti, sono tipo... No, no. Ma tu li hai tutti così... Solo la parte davanti? Esatto. Ah, invece dietro sono dritti? Dietro sono dritti, però la parte davanti è anche a mosso aperto. Quindi la cosa è ancora più evidenziata. Ok, e questa malattia ti ha portato qualche... A parte, cioè, fisicamente, magari la schiena, oppure un fastidio a livello... È solo una cosa estetica. Ma i dottori che ti dicono? Riguardo i denti o la malattia? I denti o la malattia. È sempre quella cosa lì che io devo fare l'operazione ai quattro denti nel giudizio, poi mettere un apparecchio fisso e poi fare, in teoria, se capito bene, una operazione. Ok, sicuramente sì, te devi allargare il palato o così così, te devono togliere qualcosa. Pensi che ci sia del positivo per il fatto che tu abbia i denti così? Cioè, hai tratto del positivo tipo le persone che hai conosciuto magari sono persone meno ignoranti delle altre? Esatto, credo che comunque conoscere una persona che sia diversa dal normale, diciamo. Faccia capire che tipo di persone hai attorno e poi penso che crescere con questi problemi ti rendono una persona forte. Ringrazio un po' i miei denti che mi hanno reso un po' sveglio. Ma veramente mi piace il fatto che tu abbia davvero il sorriso stampato in faccia, mi dispiace che la gente ti abbia, cioè che ti tarpi le ali perché vuol dire che ti senti a disagio nel sorridere. Sì. E perché dà fastidio all'altri, testa di cazzo. Quali critiche ti fanno? Quelle che ti sono rimaste più impresse? Ah ok, allora parto dall'esempio più grande. Praticamente qualche anno fa sono andato a fare un incontro con una scrittrice. Ah sì, quella grande stronza. Sì. E dopo ore di fila, ore di... Poi sai come funziona il meet and greet, spingi, non spingi, si vuol dire la rottura. Io arrivo lì tutto felice con il mio libro. Io lo apro per fare l'autografo. E non appena apro bocca e mi guarda tipo adesso non mi ricordo per chiedere il nome, forse era quello. Mi guarda con una faccia disgustata, preso il libro, firmato, chiuso e ha fatto il prossimo. E con gli altri parlava? Con te non ha parlato. Esatto. Hai parlato pure. Mi è capitato spesso che nelle foto magari di gruppo o comunque foto con altra gente mi dicessero di tenere la bocca chiusa. E tu lo facevi? All'inizio sì. Sì. Cupido. Non si fa. Hai trovato le angolazioni, sai tipo il punto migliore. Ma tu sei così. Ah lo so, io mi accetto. Non devi fingere di essere un'altra persona nelle foto. Eh lo so. Perché tu fai vedere solo i laterali. Vuol dire che non sei tu, cioè sei tu però non sei tu come io sono tutti gli altri. Gli altri sono dritti, nel senso stanno dritti e sorridono dritti e tu devi mettere il laterale solo perché non vuoi far vedere i tuoi denti davanti. Vabbè non parliamo delle foto tipo quelle così. Sai quante? L'ho viste. Ho vissuto. Su mio cupido? Sì privato, stavi tutto così. Ah beh sì, sono tutte coperte. Vero? Tranne tra quattro. Nemmeno. Però a bocca chiusa. Eh appunto, a bocca chiusa. Non ho visto neanche una tua foto con i denti. Infatti avrò l'onore di farmi una foto con Thomas prima che faccia operazioni o cosa. È la prima foto in cui ti sentirai a tuo agio perché ti faccio sentire a tuo agio ovviamente. E niente, è un grande onore. Beh effettivamente sarebbe la prima foto perché l'unica foto che io abbia mai fatto, sorridendo, quella che ti ho mandato su internet. Sì, ci mi hai mandato, che durava pure poco perché c'era l'ansia. La bomba. Eh. Che mi stai chiegata? No, metti la bomba. E tipo fai la foto, scorri a sinistra e c'è il tempo di 30 secondi e la roba. Il tempo c'è. Sì. Vabbè tutte quelle delle medie appunto riferite alla scuola. La scuola. Perché ti sei ritirato? No, non mi sono ritirato. Mi sono fatto bocciare di proposito. Ah, che ti sei fatto bocciare, scusa. Proprio io andavo a scuola, non facevo niente, stavo io sul banco. Rispondevo male agli altri, da ribelle proprio. Sì. E arrivato a fine anno i miei prof mi fanno, guarda puoi ancora recuperare, sono sei debiti. Il bullismo, allora, andava a colpire più fattori di me, non solo i denti ma neanche sessualità, cose così. Io fino appunto 5 anni fa, perché è successo 5 anni fa ero completamente chiuso. Da quanto ricordo neanche mi guardavo più di tanto allo specchio. Cioè mi prendevo e uscirevo di casa così come ero. Per lavarmi i denti facevo tipo molto veloce da lontano. Però è da veramente pochi anni, comunque 4, massimo 5, che mi guardo bene in bocca. Cioè non è che mi metto lì, però ho più confidenza diciamo. Che cosa pensi quando li guardi allo specchio? Ma a volte non penso niente, cioè dico vabbè questo sono io. Non è che, capito? Però altre volte dico, magari se fossero stati sistemati prima o non fosse proprio successo, la vita sarebbe stata migliore. Perché li potevi sistemare prima, forse in età dello... Lo sai che non lo so, però ipotizzo. Non so, però magari con i denti del giudizio siccome è una patologia sarebbero comunque storti. Perché i denti del giudizio, se le persone comuni fanno comunque storge i denti molte volte, oppure li fanno stringe troppo. Perché spingono l'oblicuo di quale. Quindi le operazioni, sì, perché vanno sull'osso, ma molte volte crescono sull'osso invece io, che ce l'ho piccoli. Sai che amica vabbè? Ce le ho fuori uno, ma non mi fanno, non ho sentito niente. Eh, io non sento, ce le ho tutti e quattro, tre e mezzo, tre e un quarto, anche io non esce questo, ma non sento niente. Cioè ho un acufene da un po', però dicono che non è più quello, ho fatto l'acufene. Sento il fischio nell'orecchio che mi incoglionisce. Ma sai anch'io da questo resto? Sì, ma da sempre, ma quando c'è il silenzio soprattutto. Pure io? Ma cos'è? Ma già da piccolino credo. Alla non so, strana. Ma no, ma pure lo stress quello, ma non penso se ne va alla pressione. Se vuoi la musica manetta chiusa a piccolino con le case. Sì, sì, pure io. Infatti il Huawei e l'iPhone dicono è troppo alto, io però lo alzo. Che persona sei, considerando che hai questo problema? Cioè tu hai pregiudizi nei confronti degli altri? Tipo se guardi me che ho i denti piccoli e larghi, che pensi? Niente, io sono una persona molto aperta in qualsiasi caso. Pensi ti abbia aiutato questa cosa? Penso di sì. Ah, i denti, sì, sì, di certo. Se probabilmente fossi stato proprio perfetto come vogliono tutti gli altri. Perfetto, nessuno è perfetto. Nel senso, tu già avessi avuto i denti di uno che ha messo l'apparecchio? Sì, sì. Forza avresti avuto una mentalità più chiusa, cosa pensi? Molto probabile, secondo me. Secondo me, il fatto di avere problemi, diciamo, non ti fa giudicare gli altri. La patologia, la malattia, come la vuoi chiamare, è solo estetica proprio, non ti fa nessun... E perché è una malattia? Non lo so. L'unica cosa che so è che non sento gli odori per questa cosa. Non senti gli odori? Zer. Ecco, c'è stava qualcosa, perché sembra che... Vabbè, però, non è una cosa fissa. Non è una cosa fissa. Qualcuni... Magari qualcun altro che ha questa malattia, sente gli odori meno forti o normali, invece... Non senti niente, non senti l'odore, neanche a tratti. Oh, bene. Quando puzza di merda, non la senti. Fa sturare gli altri, non dì che... E' fatto durare la tua madre in queste situazioni, che fai? E agli amici dico, tipo, non so, non so, quando metto un profumo, non so mai se è tanto o poco, capita che entro in classe, tutti gli amici, eh, quanto li hai messo? E io, eh, non lo so. Ma ci soffri questa cosa? Ci sei nato proprio col fatto che non senti gli odori? Mi è comodissimo. Quando sparo la cacca di me, nelle macchie, comodissimo. Per quale motivo mi hai chiesto di fare qualcosa, nel senso, non è che mi hai detto famo qualcosa insieme, però, nel senso, mi hai detto, voglio fare qualcosa per gli altri. Perché? Perché, allora, negli ultimi anni il femminismo, la body confidence, è molto avanzata, ne sono fiero, appoggio queste cose, però, secondo me, si punta sempre alle solite problematiche, chiamiamole, non sono problematiche, però, sempre sul peso, colore della pelle, però, tante cose vengono, così, accantonate, e non vengono neanche calcolate, come ad esempio i denti, poi, tante altre, che non so, i maschi, sa che diventano pelati, in genere, può succedere anche alle donne. Molte volte i maschi, in generale, in questo argomento, non ci trovano praticamente, cioè, non li prendono in considerazione. infatti, eppure, è una cosa che molto, non c'è. Nel senso, ci hanno tutti i problemi, in particolarità, no, ma in generale, dico, si tende più a mettere donne al centro, da questo punto di vista. Sì, che poi, secondo me, non è giusto, in molti casi, perché ci sono molti ragazzi, molti uomini, che appoggiano questi movimenti, e sono i primi ad essere attenti. Ci stiamo lavorando, però. Che pensi, che un domani, allora, farei questa operazione? Non lo so, sinceramente, è ancora troppo presto. Ma tu pensi, cioè, se rimanessi così, cioè, ci pensi mai, potrei comunque rimanere così, perché mi piaccio? Ti è mai capitato di pensarci? Sì, ci ho pensato, però ho anche pensato appunto all'opposto, di poter, magari adesso sono convinto, però poi cambio idea, quindi non lo so. Però quando ti fai operazione, capisci quanta gente stronza, da prima ti snobbava, magari poi... Poi è difficile sarà anche abituarsi, perché comunque stiamo parlando di una cosa evidente. No, un'altra domanda, ce l'ho. Sì, dove morire? Era questo? No, io vado là. Sì, dove tipo un... Non mi... Guarda, dunque. Adesso è... Vibrazione, forse, no. Ma non mi... Magari ci abita qualcuno. No, ci abita, no. Però non mi hai visto... Pensa, pensa, pensa. Hai mai avuto delle reazioni esagerate al pensiero della gente? Sì, come... No, come cosa? Vabbè, sì, ho avuto per molti anni problemi di bulimia e autobiliarismo, non mi vediamo la parola. La cosa divertente è che ho proprio iniziato a tagliarmi in classe, la famosa classe che mi sono fatto bocciare davanti a tutti senza problemi. Sicuramente. Sì, in classe, durante la lezione. Perché? Perché era successo qualcosa, adesso non mi ricordo cosa, legato ai denti appunto. e io ho preso l'arabe e ho fatto tipo, eh, oh, bello. E gli altri ti hanno visto? Ma nessuno si è d'accordo. Quando poi la cosa è degenerata, che ero proprio pieno ed era arrivata l'estate, che andavo in giro Però... Sono tante? No, lo sento qua. Però sto profondo e se sto arrivando. A meno che tu non le faccia ancora. No. Devo fare più? No. Non lo farai più? No, quello no, sicuro. Era legato solo ai denti questo fatto? Bullismo in generale, che andava... Partiva dai denti, poi andava a ramificarsi. Quando hai smesso, perché hai smesso? Che hai pensato? Chi ti ha aiutato? Allora, ho smesso perché una mia amica, che ormai non è più mia amica, abbiamo avuto batti vecchi, ha avuto la prontezza di chiamare mio padre, anche se non ho buoni rapporti con lui, durante l'atto. Cioè, lei sapeva che in quel momento stavo facendo, quindi lei ha preso, ha chiamato mio padre, ha detto, sentivai da tuo figlio che sta facendo questo. Quanto tempo andava avanti sta cosa? Non lo so, un anno, due anni, però tipo tutti i giorni, cioè non è che era... E se là davanti, là dietro c'è una persona che si autolesiona, che gli dici? Deve non farlo, che è una gran cagata. Che non porta a niente. Anzi, ti dà magari ancora più problemi, perché poi magari ti vergogni delle cicatrici, quindi ancora più problemi fisici. Esatto. E estetici, diciamo. E? E estetici perché fisici. E che sai sono male per niente. Io andavo sempre all'ospedale perché così ci vengono mai più sangue. E quando, vabbè, garanzo di emoglobina oppure anemia, cose così. E svenivo a scuola. Cioè, magari io cadevo, mi risvegliamo tutta la scuola a torno. Io, mio Dio. E ne parla col sorriso. Eh, sì, perché in fondo tutte queste cose mi hanno portato oggi, no? Ah, ah. Quindi... Se è una persona oggi le critica, che pensi? Sti cazzi? Dipende da come mi gira. Ci sono i giorni che magari muffendo, non chissà quando. Ci sono adesso dei metodi con cui tu riesci ad attenuare la rabbia, l'ansia e riesci a sfogarti? Se sì, come ultima cosa, consiglia alle altre persone qualcosa da fare in quei momenti. Eh, qua è un po' un problema perché di recente ho avuto problemi con l'alcol. Non sono uscito da una settimana, cioè, sono... Ma tempo, come basta? Quando mi hai fatto la domanda? Ma basta con tutte queste cose? Eh, è una vita un po' venturosa. In che senti problemi con l'alcol? E che magari, per appunto non farmi male così, il fine settimana, Prendevo e bevevo tantissimo, che la starò male. Nel fine settimana? Sì, proprio arrivavo alla fine settimana, sabato sera, mi brincavo di brutto da solo. Da solo? Sì. Perché? Perché l'hai fatto? Perché ho problemi familiari e in questo periodo sono molto accentuati. Mio padre ha fatto delle cose pesanti. Ciao papà. Vabbè, adesso... Lo guarderai questo video, eh. Ma non lo dite, non te lo senti, veramente. No, vabbè. E... No, mi auguro più che altro che non lo guardi a questo punto, perché... Vabbè, signore, se lo guarda, forse è meglio le dasse una placata, siccome... Però io ti ho detto che è uno psicologo. Uh? A voi? Tu mi hai detto che gli psicologi, cioè diciamo, magari andavi quattro mesi da uno, poi non finivi il percorso, quindi l'anno dopo ti vergognavi di tornata a quello, perché non avevi finito. Lo sai che adesso tu dovresti comunque andare da uno psicologo, se ti sfoghi in questi modi. Quando hai finito da andacce? Un anno fa, l'ultimo, anche due, non mi ricordo. Hai riconsiderato l'idea di andacce? No, secondo me non ne ho bisogno. Ok, adesso ho avuto questo problema con l'alcol, però fino a prima sono bene. Però promettimi che se continuo la cosa con l'alcol parlerei con qualcuno, perché veramente... Cioè è brutto, poi. Primo sabato senza me. Ah, grazie a me. Vengo ogni sabato adesso. Casomai vengo io. Mi piace messo 50 anni, e non ero a casa mia, eh. Ero qua a Milano e io ci ho messo 40 minuti. Ah, quindi 40 minuti da Milano? Ero a noi. E per tornare là? Adesso prendo la metro e da Cadorra al diretto, cioè al Comunago. Ah, c'è qualcos'altro che tu vuoi dire? Una cosa che piacerebbe di... Non mi dite no, se no è una figura di merda. Di non sentire quello che gli altri mi dicono, e di fregarvene appunto di quello che gli altri mi dicono. L'importante è che state bene voi comunque stessi, e non... A meno che non abbiate problemi gravi. In che senso? Cioè nel senso se tipo una cosa identica, oppure qualcosa che non cambi di te stesso, ma non mi viene un esempio, perché a me dicono sempre guarda che ti può portare problemi alla schiena, in quel caso se vi accorgete che ha qualcosa che aveva fatto male, dovete ovviamente fare terapia e tutto. Ovviamente parlavo più dal punto di vista, sì. Sì, ecco. Sì, come me. E per finire, vuoi sorridere davanti a me come me? Davanti alla canna? Ah, avvicinati. Avvicinati. Vedi perché squalo? Eh? Squalo. Eh, a me piacciono i squali, stai tranquillo. Ma sono una bella metafora, eh. Eh. Quando ho fatto il titolo di quella... Perché gli squali? A parte i denti, no? Vengono visti come pericolosi per i denti, però in verità sono quelli che vengono uccisi. Sì. Dagli umani. Vengono lì, tipo... Eh. Sì, infatti i miei animali preferiti probabilmente per quello. Sono pure claustrofobici quelli bianchi. Lo sai? Cioè, se li metti dentro l'acquario, sbattono la capaccia da suoi livello stress perché è troppo chiuso. Deve uno squalo. Oraci. Infatti, pensa che uno squalo bianco è stato in Giappone per solo tre giorni. Sì, questo l'ho saputo. E io stavo in Giappone e l'ho visto in quei tre giorni. Davvero? Quando me ne sono andata, gli mancavo troppo e se ne è andato nell'oceano di nuovo. Grazie, Thomas, per aver partecipato a questo video e per aver condiviso la tua storia. Sei stato coraggioso perché è una cosa che non hai mai fatto. Quindi, grazie davvero. Seggiatemi altri video e altre interviste. Se volete di nuovo Thomas in un video, fatemelo sapere. Così torno a Milano. Tu vieni a Roma, tanto è comunque più semplice che tu vieni qua. È diretto, mini. Appunto. E vabbè, me si ama se beccamo nei commenti. Ciao. Ciao. Ah! 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 Ah!